Ciao a tutti, oggi impareremo assieme a Bruno e a Soda di PetPro come insegnare nuove abilità al vostro amico quattro zampe con un semplice strumento, il clicker. Oggi scopriamo che cos'è e come si usa il clicker. Il clicker è uno strumento di lavoro molto utile per insegnare comandi a distanza o abilità più complessa al cane. Solitamente per insegnare un nuovo comportamento al cane dobbiamo rinforzare quel comportamento appena lo emette. Ad esempio, se chiedo a Soda, vieni Soda, seduta, appena mette le gambe a terra premio il cane. Se invece io volessi insegnare a Soda a sedersi a distanza, il premiarla automaticamente a 10 metri ad esempio sarebbe molto difficile. Quindi ci aiutiamo con il clicker, detto anche stimolo ponte. Quando il cane sente il rumore emesso dal clicker sa che ha emesso il comportamento giusto. Per far capire al cane che questo suono gli preannuncerà il premietto ho bisogno di insegnare proprio materialmente che cosa significa questo suono. Ci sono due modi per poter spiegarlo. Uno è un metodo molto meccanico. Prendo dei premietti, li metto nella mano dove tengo il clicker e metto il suono e premio. Premio, clic, premio. Dopo una serie di ripetizioni per un po' di tempo il cane viene condizionato a questo rumore e saprà che quando io faccio il click è successo qualcosa di positivo. L'altro metodo che possiamo utilizzare è quello naturale ovvero clicker in mano. Soda vieni e aspetto. Bravissima tata! E premio. Vieni. Bravissima! Aspetto che naturalmente il cane mi emette un comportamento. Così facendo il cane diventa molto più propositivo in quanto crede di essere lui a far scattare il suono. E man mano che facciamo questo esercizio i comportamenti verranno sempre più spontanei e sempre diversi. Il clicker oltre ad essere una cosa molto divertente perché ci permette di insegnare dei comportamenti molto ludici è anche un qualcosa di molto pratico. Ad esempio per insegnare a quei cani che vanno ad aiutare le persone diversamente abili nella vita di tutti i giorni. Ad esempio ad aprire un frigorifero piuttosto che a riportare oggetti, a raccogliere un oggetto caduto perché in questa maniera possiamo lavorare a distanza. Il clicker è uno strumento di lavoro molto utile che permette di insegnare nuove abilità divertenti al vostro cane. Se vi siete divertiti ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!